Meno di un anno fa valeva i play-off, ora il derby tra Virtus Francavilla e Monopoli vale un posto al sole distante dalla zona play-out. Ritratto di due squadre distanziate da tre punti, quelli che separano i 30 della Virtus Francavilla undicesima dai 27 del Monopoli quattordicesimo. Nello specchietto retrovisore c'è un turno di campionato messo alle spalle senza rete al passivo. La parata sul calcio di rigore di Mazzeo, compiuta da Brian Costa, sei presenze e due clean sheet in stagione per il portiere. Ha evitato alla formazione di Trocini il cap o a potenza la zampata di De Paoli nel finale. Ha permesso ai biancoverdi di scienza di superare la Cavese, nonostante una gara giocata in dieci dal ventitresimo del primo tempo per l'espulsione di Ghiebre. Proprio il laterale sarà uno degli indisponibili nel Monopoli diretto al Giovanni Paolo II. L'infermeria non si svuota e considerando le condizioni di Tazzer, Bonino, Spadoni, Arena, Nicoletti e Satalino saranno diversi gli indisponibili per il derby. Trocini è invece una priorità, ritrovare un gol che non è arrivato nelle ultime quattro partite contro Juve Stabia Catania Paganese a punto potenza e tornare a quel successo che manca dal 30 gennaio nel 3-1 interno alla Turris. Fischio d'inizio sabato alle 15 dirigerà l'incontro Federico Fontani della sezione di Siena.